Da Livorno torniamo a Pisa ancora con Piero Giorgetti per parlare di una commemorazione storica. Da un paio d'anni ha preso sempre più piede la volontà da parte delle varie realtà storiche della città di Pisa di rendere onore a un periodo che fu terribile e al contempo ricco di orgoglio, quello della lunga resistenza di Pisa al tentativo da parte di Firenze di riconquistarla dopo averla vinta e assoggettata nel 1406. Un romanzo di orgogliosa solitudine, di caparbia resistenza oltranza, che riporta il ricordo di un'epopea antica, quella dell'assedio decennale della città di Troia alla parte degli Achei. Una resistenza che Pisa batté perché durò 15 anni, dal 1494 al 1509, appoggiata inizialmente dalla Francia per poi essere lasciata sola a se stessa. Una storia che racconta un prolungato assedio, gli attacchi continui sempre falliti, il coinvolgimento anche di Leonardo da Vinci a cui fu chiesto di deviare l'Arno per poter permettere ai fiorentini di invadere la città camminando sull'alve asciutto del fiume. Il momento istituzionale era la deposizione di una corona di fiore proprio all'ingresso del bastione di Stampace, lo avvenne in una delle battaglie più sanguinose fra la popolazione pisana e l'assalto dei fiorentini. 40 giorni di spinte e poi l'8 settembre 1499 un combattimento all'arma bianca che fu vinto dai pisani con la forza e la disperazione. Cristiano Scarpellini è il presidente del gruppo storico Balestrieri Porta San Marco, è il secondo anno, perché rispolverare questo momento della storia di Pisa crepuscolare ma al contempo stesso anche orgoglioso? Perché la nostra compagnia, il nostro gruppo è nato per cercare di rispolverare le vecchie tradizioni, di ricordare gli eventi importanti della città di Pisa che ne ha tantissimi. Noi non siamo soltanto un gruppo di balestrieri ma siamo anche un gruppo che cerca di riscoprire intanto posti importanti come questo, che è un posto che per noi sarebbe vitale anche per il nostro futuro, per poterci venire a attirare, ma in più anche perché è un posto che ricorda dei momenti della storia della Repubblica Pisana. In questi 15 anni d'assedio a dare una mano ai pisani rimasti da soli dopo le promesse dei francesi c'erano i lucchesi, 300 tra balestrieri e fanti, a rappresentare i lucchesi, il vicepresidente della condotta, insomma Giuseppe del Poggetto della compagnia balestrieri di Lucca, cancelliere. Dopo tanti secoli di nemicizie tra Lucca e Pisa, Lucca interviene da una mano contro Firenze. Allora questa rievocazione è nata da un rapporto di omicizia che avevo col segretario qui della compagnia balestrieri di Pisa, Renzo Cianchierotti e anche con Cristiano Scarpellini e praticamente è stato un piacere anche per me come lucchese scoprire che il nemico comune Firenze ci aveva unito e quindi per contrastare Firenze che espandeva il proprio diminuzione sulla Toscana, Lucca e Pisa hanno avuto dei momenti in comune di sostegno, non diciamo magari di amicizia, c'è sempre stata rivalità, però ecco è stato bello sapere che ci sono stati anche momenti in cui abbiamo condiviso degli aiuti e siamo riusciti anche a dare una mano nel nostro piccolo a Pisa per riuscire a tenere Firenze lontana per qualche anno ancora. Insomma il nemico del mio nemico è mio amico. Esatto, è andata così. Poi con la compagnia di Porta San Marco è nata subito dall'inizio un certo feeling che spero anche l'amministrazione di Pisa voglia sostenere le loro iniziative anche perché sto scoprendo una Pisa anche per me lucchese inedita. Ci sono posti meravigliosi come questo qui che abbiamo oggi dove facciamo questa rievocazione. Ripeto, il mio sollecito è che anche l'amministrazione di Pisa dia una mano a questa associazione per crescere e sviluppare un potenziale enorme che c'è in giro per l'Italia e che forse a Pisa ha bisogno di essere ancora valorizzato maggiormente come da Lucca, a Lucca facciamo già da 50 anni.